Con Franco Verde, un Foriano Doc, una bella stagione quella del Real Forio che però ancora deve terminare. Siete alla ricerca di questa salvezza, domani con il Casa Giove non si può sbagliare. Sì, abbiamo fatto un ottimo campionato, come hai detto tu siamo alla ricerca di questa salvezza e domani è una partita difficilissima. Ma ce la metteremo tutta per portare a casa l'intera posta in valio e festeggiare questa meritata salvezza. Come è andata la settimana? Chiaramente un po' di tensione c'è perché è una partita importante. Ovviamente dalla vostra avete la tranquillità di avere qualche punticino in più. Però in effetti la voglia di chiudere al più perso questa pratica. Come vi siete allenati? Come l'ha preparata anche il mister Ghiomine? Lui che emotivamente la sente molto la partita. Questa è stata una settimana molto intensa. Come hai detto tu la squadra è stata molto concentrata. Abbiamo assimilato i concetti di gioco che vuole il mister. Siamo carichi al punto giusto per affrontare questa difficilissima gara di domani. Come lo vedi questo Casa Giove? All'andata l'avete battuto ma nelle ultime partite ha invertito la tendenza. Di fatti lo davamo tutti già per morto e invece l'Ermes Casa Giove ha vinto quasi tutte le ultime partite. Sì, il Casa Giove è una squadra fortissima. Infatti le ultime partite le ha vinte quasi tutte. È andata a pareggiare in casa con San Giorgio che è un'ottima squadra. È andata a vincere a Procida. Comunque è una squadra molto molto forte. Noi sappiamo che domani sarà una partita molto dura. C'è bisogno anche delle tue grida per tenere in ordine la difesa. I ragazzi come si stanno comportando? No, vabbè io purtroppo la dovenica mi trasformo in mezzo al campo. Ma è sempre stato così da quando ero un ragazzino. Però diciamo che col mio modo di fare tengo un po' tutti sulle spine e tutti sul chi va là. Questa è la cosa importante perché essendo una squadra molto ma molto giovane un attimo di disattenzione ci può costare caro. Infatti loro, gli dico sempre, dovete avere paura di me ma non degli avversari. Franco però una curiosità. Quest'anno avevi deciso di metterti un po' dietro le quinte se invece sei ritornato in campo e anche da protagonista, non una tantum. Nelle ultime partite sei sempre in campo. Ce la fai ancora allora? No, ce la faccio ancora. Io sono vecchietto. Però diciamo che con la serietà e l'allenamento riesco ancora a dare qualcosina in campo. e di questo sono anche grazie ai miei compagni di squadra che comunque, vi ripeto, mi danno proprio una grossa mano.